Sette milioni e mezzo l'istanza ferrovia dello Stato, il resto lo metterà il Comune tramite i cosiddetti fondi Pond Metro, quello che attualmente è un deserto che ha visto chiudere una ad una le attività commerciali e che vede a naspare quelle che restano, si trasformerà in un centro con annessa aria pedonale pieno di vitalità. Il progetto è già esecutivo e attende soltanto che vengano bandite le gare, i soldi sono già stati stanziati. A vedere le tavole progettuali c'è da restare a bocca aperta, dal cavalcavia e da quello che diventerà un parcheggio, coloro che dovranno raggiungere la stazione ferroviaria e la stazione marittima potranno farlo agevolmente con dei passaggi pedonali e con scale mobili. Il volto delle due stazioni attualmente deserte dovrebbe cambiare radicalmente. Tra la stazione ferroviaria e il porto, un'ampia zona pedonale all'interno percorsi e negozi, e poi una stazione di interscambio dei pullman, in pratica tutti gli autobus diretti a Catania, all'aeroporto o in provincia, partiranno dall'area della stazione marittima, un nuovo centro di aggregazione che riprende i progetti che hanno visto rinascere stazioni come quelle di Roma Termini o di Napoli, o quelli che vedono nelle aree sotterranee delle metropolitane dei veri centri commerciali, l'idea portata avanti in questi mesi in silenzio è dell'assessore alla viabilità Gaetano Cacciola.